Fanno le cose lì, viene di tarda, viene di tarda, perché? Dalla vagina, adesso sarà in cuore, dopo il minuto, dopo il minuto del secolo. Stanno a te voglio che rimani, sguardanti le due gambe, e fai colmo su un'aria. Sui telefoni, fuori le lucine, dove siete, non potete perdere tempo adesso. Fuori le lucine, ragazzi, ragazzi, è un po' così, diciamo. Le famiglie, nasce una bontà, o viola o scena, naturalità. Un antico amore, arriva fresco a te. E, 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 da te sapore. Robbiamo un zero. Una bontà fresca di date. Per fatturire. Viva gli sposi! Sudescanale! Viva gli sposi! Viva gli sposi! Grazie a tutti